ben ritrovati nel salotto di chiacchiere e caffè non prendete paura non vi siete sbagliati sembrano scene da un matrimonio invece invece una delle nostre puntate una delle nostre puntate speciali una delle nostre puntate da sogno chiacchiere di matrimonio lo facciamo insieme ad una di quelle grandi firme dell'alta moda una di quelle firme che tutte le spose conoscono ovvero rosy garbo e con grande piacere che vado quindi a presentarvi i miei ospiti ovvero rosy garbo grazie infinite e poi e poi mauro belcaro figlio di rosy garbo e fashion designer buongiorno mauro allora questa puntata così da sogno dedicata alla sposa ma alla moda in generale e mi viene spontaneo partire con la domanda da dove la passione per l'alta moda e soprattutto perché la scelta della sposa beh perché la la sposa si avvicina molto all'alta moda se vogliamo definirli degli abiti degli abiti diversi originali eleganti raffinati altrimenti diventerebbe un solito abito da sposa che indubbiamente è quello più utilizzato e la passione diventa perché l'unico giorno che una può dare per un pubblico qualcosa di magico comunque una preparazione io pensando a una ragazza che si deve tutta abbigliare un giorno così come pensare un momento di una sfilata o di una protagonista che deve interpretare un proprio ruolo per cui la cosa mi è sempre piaciuta fin da piccola e poi diciamo la verità da noi non è che abbiamo tutti questi stigalà vestiti di alta moda si possono utilizzare solo nel giorno più bello o un grande evento di cui molto improbabilmente li troviamo qui allora mi come posso dire mi passò mi passiono mi progetto mi attivo esclusivamente a dover creare qualcosa di diverso della sposa tradizionale che però è sempre classica parola d'ordine raffinata elegante è così una cosa che mi piace che poi cambiando colore sarebbe assolutamente un abito di alta moda ovviamente questo penso sia un pochino al tratto che contraddistingue il suo marchio vedendo qui nuna e fernanda direi che più delle spose mi sembrano delle bellissime artiste che stanno andando in un bel recar per a presentare qualcosa che non hanno nulla da invidiare all'estero lì assolutamente lo possono indossare anche loro assolutamente e basterebbe aggiungere un velo e un caso di fiori il trucco adatto la pettinatura preparata adeguata non troverei che appunto questo cambio è stata una cosa del tutto normale forse perché ci sono abituata e la reputo facile averla anche presentare una cosa i suoi abiti si contraddistinguono per la sartorialità e soprattutto per essere espressione del vero made in italy indubbiamente costruiti e pensati disegnati costruiti tutto qui diciamo proprio limitrofo per cui più made in italy di così vorrei dire quasi quasi veneto anzi veneto made in veneto assoluto e poi ovviamente nella sposa o nella caratteristica di persona qualunque sia non ha importanza viene personalizzato adattato adeguato finalizzato cioè tutto su anche delle sue esigenze personali perché insomma si possono creare dei modelli tanti tantissimi fotografarli definirli c'è chi va in sito internet piace quello e magari è perfetta e tutto l'indossa ok c'è chi magari una scolla una manica o necessita o no o sì insomma si vede di collaborare ma assolutamente quando la cosa è proprio vicina bisogna cercare di farla utilizzare scusate su misura ma assolutamente insomma per quello dico made in veneto comunque made in italy perché realmente in italia la vera tradizione la qualità rimane sempre sul sartoriale assolutamente ecco rosy vorrei citarle una sua dichiarazione a me piace rendere un abito indossabile non mi sento una stilista che cerca solo l'immagine sono anche una donna molto concreta beh questo sicuramente perché insomma già l'abbiamo anticipato prima se stiamo sul lavoro portabile ovvio come ho detto adesso cambio a colore o comunque lo riciclo in maniera diversa il vestito deve essere assolutamente mettibile pensiero di un mio vestito chiamiamolo far virgolette sposa che durare solo un giorno mi viene da piangere è riduttivo assolutamente no ecco se magari che queste ragazze le capitassero sempre dei bellissimi inviti dove poterli indossare magari qualche volta o comunque fare come me pensare un prossimo 25esimo anno di matrimonio magari con la stessa persona che glielo auguro a tutte quelle che si sposano indossare l'abito come ho fatto io che i miei figli francesco e mauro a new york sono commossi che hanno visto la loro mamma indossare il vestito del matrimonio è stata un'esperienza fortissima bellissima ma non solo per noi anche per il tre stesso che a new york non ha mai visto un 25esimo in tutta la sua vita addirittura e quindi è stata una novità assoluta assoluta tutta made in veneto no no molto bella questa cosa perché quando sono vestiti lavorati sapientemente curati non fatti perché deve durare un giorno e con qualità con espressioni anche proprio vitali e anche con il pensiero soprattutto con il pensiero lavorato in comune con la persona ovvio che non è un vestito che uno butterebbe mai una scatola ma lo deve appendere appunto per quello la differenza dall'usa e getta comunque ho la tendenza qui non si parla di tendenza ne usa e getta qui un vestito giro legato poi dura per tutta la tua vita e anche forse la generazione dopo sarà ancora attuale assolutamente sì è una cosa quindi che le mamme possono io ho qualche mia amica che mi ha detto ma non penserai mai che io di poter comprare un altro vestito a mia figlia perché si metterà il vestito che mi sono sposata io ho più di qualcuna che purtroppo dico purtroppo perché durano un po' troppo ma no ma quando le cose sono particolari guardiamo vestito di nuna che addosso sono tutti piccoli pezzi tagliati di tessuto e così poi tutti portati su e creato creato questo gioco che fa che fa la differenza di una pezza dritta puntata su e giù con quattro fiori insomma la raffinatezza di tutti i pezzi tagliati collo maniche o via questo un vestito che può durare mille anni non un anno e quindi essere tramandato proprio assolutamente assolutamente poi con i giusti momenti e dettagli dell'epoca perché se passiamo di un insomma pensare un vent'anni venticinque anni dopo è veramente un'altra epoca c'è un personaggio che le piacerebbe vestire che non c'è ancora riuscita ma guarda io una volta ho un'intervista molto importante suo figlio io perché mi vesto da solo no 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 e loro sono uomini maschi per cui non ho questo non c'è tanto gusto no 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 questa no no stai facendo la stessa cosa no io sono così no ma è bello il confronto tra noi il confronto io mi è stata fatta una domanda quando cosa a chi mi sarebbe piaciuto vestire anni fa e io gli ho detto così ma di scherzo proprio dopo neanche un anno e la cosa si è verificata guarda è stato a saremo quando è venuta qua e siamo stati c'era anche mauro e siamo andati in questo hotel riz dove abbiamo avuto modo di vederla conoscerla dagli abiti e così via è già stato un sogno un sogno bello perché è stata una delle persone che certo se poi mi capitasse angelina jolie o qualche ada cioè non è che l'ha avuto via beh noi lanciamo l'appello ma abbiamo tante abbiamo tante tantissime bei personaggi anche noi qua e tantissime belle ragazze che non occorre andare nelle dive di hollywood perché basta adobarle veramente ma io dico che guarda un bel vestito un bel trucco do belle scarpe una bella borsa un po di protagonismo non occorre andare tanto lontano certo a chi dispiacerebbe insomma tante volte si ci basta volerle le cose però ci vogliono anche i tempi volere e potere rosy io davvero la ringrazio per essere stata con noi so che lei ha una cliente che l'aspetta no magari fosse una sola oggi ho proprio più cose a cavalatte che mi arrivano da fuori anche da roma da fuori proprio per cui non posso fare attendere e mi scuso le clienti prima di tutto ma sì perché poi le persone hanno bisogno di me io voglio accontentarle rosy grazie infinita grazie a voi grazie tutto a voi credo che è stato comunque un bel messaggio grazie infinita noi intanto ci guardiamo delle splendide immagini che ci avete portato ecco questo se non sbaglio è un backstage sì sì questo è un backstage a villa contarini qui insieme quindi zona sempre made in veneto ribadiamo sì sì diciamolo pure perché non solo in italia cerco di dire made in veneto ma anche all'estero perché naturalmente il veneto per me è una regione molto importante non solo ma comunque molto forte lavorativamente parlando beh tu poi sei un pochino un giovane imprenditore voglio dire ci tieni molto a a questo certo sono un giovane imprenditore insomma non è facile voglio dire no assolutamente sai il tempo soprattutto i giorni nostri non è assolutamente facile creare qualcosa di nuovo o creare già qualcosa di stesse o mantenere qualcosa anche di vedo io con l'azienda anche familiare non è se non sono tu hai ereditato un nome importantissimo e non deve essere stato facile no non è facile e non è facile neanche mantenerlo cerchiamo di fare il possibile naturalmente vedo che è una cosa molto bella e produttiva avere questo confronto quindi noi giovani con l'esperienza di mia madre dello staff dell'azienda quindi idea nuova confronto con esperienza vengono dei mix vincenti ecco ascolta tu e tuo fratello praticamente siete cresciuti a pane e moda possiamo sì effettivamente mi ricordo proprio a bambino mi ricordo su un servizio fotografico si stavano cambiando le modelle mamma perché queste modelle sono nude ma ora non le fatte ne vattene quindi già da subito la passione sì realmente sai sempre respirata all'aria della moda con mia madre fin bambino mi ricordo come dormivo sul sul tavolo da taglio fin lei di notte lavorava a me mi piaceva la seta l'organza me la mettevo sotto per due minuti tipo cuscino sì siamo nati così naturalmente mio padre fa un altro lavoro fa costruzioni quindi ho studiato geometra io poi architettura un paio di anni poi sono andato a londra ho detto quindi un percorso completamente diversi poi a londra mi sono laureato sulle scuole più importanti del mondo del design la san martin college la scuola di alexander ma qui in giocagliano e poi da lì ho visto talento perché non entri sono mai talento punto e basta è libera è stata la molla ascolta se non avessi fatto questo di lavoro cosa ti sarebbe piaciuto fare è quello che stavo studiando realmente quindi l'architettura mi sembra piaciuta ascolta entriamo un attimino nel dettaglio visto che abbiamo questi due splendidi abiti c'è ancora la ricerca e il gusto da parte dei clienti per un abito sartoriale guarda sta tornando mi sto rendendo conto e ci rendiamo conto che sta tornando proprio la la voglia di di avere un capo sartoriale perché intanto non dico ferrari ma porsche perché intanto per non dire troppo ma sulla vestibilità superiore ognuno di noi non è non è una taglia non è un 42 tu non sai un 48 c'è sempre con l'imperfezione la spalla più alta più alto il bacino tutti abbiamo un po' di fettucci no ecco sul sartoriale su misura la vestibilità la senti proprio una marcia in più e poi puoi fartelo anche un po' il tuo gusto cerchi di lavorare con i nuovi designer o con mia madre che sia quindi dai anche qualcosa di tuo dentro non è che lo compri e basta e vedo che al risultato ti senti ti senti meglio con l'abito sartoriale vedo anche sui nuovi giovani quindi le spose che per esempio vengono da voi c'è proprio un lavoro fatto insieme o a te o a tua madre per personalizzare io mi occupo più l'uomo naturalmente lei più la donna però sì quello è bello perché rendi non solo la fantasia loro ma un'idea che magari possono avere avuto anche loro inizialmente la sviluppi con loro quindi si sentono proprio partecipi dentro il sistema gli fai capire il tessuto gli spieghi il tessuto da dove viene la filiera come funziona quindi cerchi di anche insegnare lo stesso perché questo può valere un po' di più dell'altro quindi lo capiscono se ne rendono conto e per noi è un gran successo ascolta ma c'è anche interesse per il tessuto questo da dove viene questo come è fatto realmente non lo sanno per quello che noi cerchiamo di motivare tutto farlo spiegare quindi anche anche solo per fare un primo appuntamento che invito tutte quante che non c'è nessun nessun costo nessun vincolo quindi anche solo per provare a indossare per una volta sono stata principessa anch'io sì ma non solo per il concetto di principessa proprio per la vestibilità dell'abito perché noi siamo rimaniamo sardoriali il tessuto lo tagliamo in sbiecco quindi veste c'è molto più scarto quindi tutti i tessuti naturali viene tagliato in sbiecco viene fatto su misura quindi veramente lo senti che è una cosa tua sia data tuo corpo una marcia in più per quello una persona che non l'ha mai fatto non se ne rende conto io invito tutti a provare naturalmente per rendersi conto per toccare con mano e poi ti dura sempre lo metti in armadio ti dura una vita poi addirittura l'abito sardoriale naturalmente c'è sempre un ritocco che si può allargare o chiudere un po' di più quindi vengono sempre lasciati dei margini esattamente quindi se inglassi un chilo in più di maniera si può sistemare ci sono dei vantaggi ecco è il prezzo più o meno uguale di quello che prendi la taglia e tutto lì ma io rimango sempre sul sardoriale quello è il vostro marchio di fabbrica assoluta Mauro tu ti occupi dell'uomo però hai anche un occhio privilegiato su quella che è la sposa dimmi un po' sono cambiate in questi ultimi anni le spose sono più esigenti le spose o gli sposi beh ci sono dipende da tipologia di vita che hai da personalità comunque vedo molto più fashion system anche nella nuova generazione quindi l'idea già più chiara voglio essere così perché voglio dare questo quindi hanno già chiaro in mente che cosa vogliono chiaro no non è chiaro però sanno più o meno cosa vorrebbero un'idea indicativa ascolta e vi è mai capitato di dover dire di no ad una sposa perché magari aveva un'idea del tutto strampalata magari l'avete fatta ragionare su guarda non è propriamente così questo succede quasi sempre quasi sempre questo che abbiamo detto no a una sposa mi ricordo sì a Roma di una sposa perché voleva sposarsi tutto in nero mia madre ha detto no non te lo faccio tutto in nero per il matrimonio anche se è successo altre volte magari i dettagli neri dal rosso al vero cioè ci sono molti colori anche che si possono usare nella sposa chi vuole però quella volta mi ricordo io ero bambino e mia madre ha detto no perché tutto nero tutto nero assolutamente assoluto nero no ha detto no ascolta ma ci sono quindi anche delle mode negli abiti da sposa magari legate ai colori piuttosto che a un genere che va per la maggiore? beh assolutamente noi cerchiamo sempre di essere l'avanguardia nella ricerca nella collezione che poi dopo tu venga con un'idea noi cerchiamo di realizzarla a modo nostro con la nostra esperienza la tua idea nessun problema però c'è sempre una strategia un trend diciamo certo che sì anche lì sì ecco gli abiti colorati per esempio vanno o non vanno oppure in genere quest'anno sai ne abbiamo fatto di più degli anni scorsi sì per esempio sì sì dal rosso dal verde addirittura il rosso dall'azzurro dall'antracite colori anche particolari sì sì magari non totalmente ma con sfumature con dettaglio perché l'uomo magari alla pochette così la donna richiama quindi cercare anche di abbinare tante volte viene veramente una cosa interessante ascolta osa di più l'uomo o la donna nella scelta dei colori? beh la donna la donna la donna sicuramente sì anche se realmente ultimamente mi stanno arrivando dei ragazzi che vogliono fare un po' i spumeggianti si sentono più donne degli uomini quindi quindi amano questo mezzo ascolta una cosa c'è un galatteo anche per quello che riguarda il matrimonio perché spesso io mi ricordo la mia mamma mi diceva ma se vai a un matrimonio non vestirti di nero non vestirti di bianco ma che funziona un pochino no realmente i racconti di tua nonna sono veritieri sono veritieri perché insomma un matrimonio dipende anche da che matrimonio è matrimonio adesso sai si vede un po' di tutto in giro però certe regole servono e per fortuna ci sono perché quindi c'è anche un vero e proprio galateo circa l'abito da sposa un'etichetta sì diciamo un'etichetta c'è sì 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 altra cosa che ti voglio chiedere velo sì o velo no perché questa è una grande questione di battuta il velo piace ancora alle spose ma per me il velo fa anche tanto l'abito quindi io consiglio sempre un bel velo non importa che sia lungo o corto ma che sia abbinato dello stesso materiale del vestito su di te quindi necessario secondo me per il matrimonio dopodiché della chiesa del matrimonio che sia in comune possiamo anche avere il corto lungo leviamolo per poi l'evento la festa ma ci vuole dai un po' di tradizione dobbiamo tenerla ascolta dove è che trovate l'ispirazione per le vostre collezioni? guarda Rossi Garbo mia madre è con noi con il nostro ufficio stile da circa 7-8 anni che prendiamo ispirazione proprio da ogni città infatti nominiamo anche le collezioni collezione Budapest, collezione Messico, collezione New York collezione Venezia, collezione Milano quindi diamo un senso anche alla collezione alla città dove ci siamo ispirati quindi anche un senso di internazionalità bravissimo è un viaggio che vogliamo fare con gli abiti di Rossi Garbo è un modo per esportare il marchio perché ormai hai iniziato ad essere conosciuti sì, veramente c'è ancora molta strada da fare però sai ringrazio mia madre tantissimo di quello che ha già fatto noi cerchiamo di di cogliere questa eredità coglierla, portarla avanti e renderla possibile di più ascolta tu prima hai parlato di un lavoro di squadra una sorta di team diciamo capitano mai degli scontri? tutti i giorni vedo anche che le ragazze sì, perché Fernanda e Luna oltre a fare le ragazze e le modelle fanno anche, lavorano proprio con me Luna di cui disegna è anche molto brava Fernanda mi gestisce invece tutta la parte commerciale quindi siete una grande famiglia diciamo sì, realmente Rossi Garbo è una grande famiglia come ci ha insegnato mia madre siamo nati un po' così mio fratello, mia madre siamo proprio realmente abbiamo sempre avuto tanti amici tanti contatti ci piace proprio e di cui abbiamo fatto questo un lavoro anche quindi cerchiamo di trovare selezionare il nostro gruppo per fare squadra vincente ascolta ma tua madre tipo ti bacchetta mai no, quest'abito non va bene perché sì, madonna sì, sì e qui continuano le risate in studio le nostre ragazze annuiscono quindi è anche severa su quello no, madonna sì, sì, sì beh, mia madre d'altronde da una vita che fa questo lavoro da una vita è nata proprio anche lei sono già 50 e passa anni che fa questo lavoro mia madre e quindi? quindi tu per quanto ti auguri di farlo? beh, per sempre per sempre la moda è un po' cioè è una fascia artistica anche quella della vita perché c'è la moda possiamo mettere dalla fotografia alla cucina tutto questo mondo creativo si abbina sempre alla moda intanto per me è una passione non vorrei che di smetterla mai insomma quindi una vita senza moda sarebbe inconcepibile sì, sì ma non dico tanto per il vestito perché il vestito ma la moda è proprio 360 gradi la moda deve saper vendere deve saper fare il marketing comunicare deve saper disegnare essere creativo saper parlare presentare cioè devi essere 360 gradi della moda non è sono un designer ok, disegno fai quello ma io intendo moda proprio a 360 gradi ed ecco quello è il bello cresce a ampliare su tanti rami creare tante opportunità crescere anche culturalmente cioè è molto ampia sì, sì, sì allora Mauro io avevo un altro progetto di cui volevo farti parlare che è diciamo il portale della moda dopo la creazione so di avere proprio a Maison dove gli sposi possano trovare di tutto e di più certo allora visto che il tempo è tiranno e ormai la puntata sta avvolgendo al termine ti invito nuovamente qui nei nostri studi e ad aggiornarci su tutte quante queste news volentieri perfetto allora abbiamo strappato la promessa torneremo ancora a parlare di matrimonio perciò voi dovete continuare a seguirci io intanto vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè mi raccomando aspetto tutte le vostre segnalazioni veniteci a trovare sulla nostra pagina facebook dove è obbligatorio cliccare chiacchiere caffè mi piace e anche per quest'oggi le chiacchiere sono terminate l'appuntamento va domani arrivederci l'appuntamento va domani in the moonlight